Questo è un saluto fascista, hanno denunciato alcuni in rete. Il riferimento è la parata del 2 giugno. Passano gli incursori del Consubin della Marina, alzano il braccio davanti all'autorità, con il presidente del Senato, Ignazio Larussa, che fa il segno di vittoria. Un caso di saluto fascista ovviamente sarebbe gravissimo, ma a ben guardare le cose sono più complesse. Come hanno spiegato Esperti e la stessa Marina Militare, che hanno esposto tre fatti. Primo, non si tratta di un saluto fascista. Il braccio alzato del militare si chiama tecnicamente attenti a sinistra. È il saluto che viene fatto alla tribuna delle autorità. Secondo, i soldati urlano decima. Qualcuno ha detto che inneggiano il reparto fascista della decima massa della Seconda Guerra Mondiale. In realtà richiamano la decima della Marina Militare del Regno, che è operato fino al 1943 e che è il precursore degli incursori di Marina. Terzo, non è una novità di quest'anno. Parata degli incursori del 2012, parata del giugno del 2014, parata della Folgore del 2017, parata dei Carabinieri del 2022, parata addirittura della Croce Rossa del 2023. Quel tipo di saluto viene fatto da anni, da tutti i reparti che sfilano.